Allora non c'è più San Giuliano al Ministero della Cultura, ma continuano ad arrivare delle nomi che sono figlie delle sue scelte. Quella clamorosa è la guida transitoria del Maxi affidata a un'odontoiatra infantile, poi seguirà un'altra persona. Entrambe queste due donne sono delle trombate, delle elezioni, che sembra abbia svolto lavori di ufficio stampa. Va benissimo, però allora il metodo, il merito. Intanto Nanni Moretti chiama allo sciopero la mobilitazione, il mondo del cinema contro la legge voluta da San Giuliano, soprattutto la norma sul tax credit. E Maurizio Andini, che è qui con noi, annuncia che anche la CGL inizia subito con una mobilitazione contro provvedimenti legati alla manovra, alla nuova finanziaria, che non gli piacciono. Allora ringraziamo Maurizio Andini di essere qui con noi, ringraziamo Marcello Sorgi di essere, come spesso ha fatto, il nostro pungolo e il nostro analista. C'è una sorridentissima, Marianna Aprile. E non dovresti piangere, commuoverti? No, sono contenta, spendi la stagione di l'onda, è l'ultima puntata, però ho pochi minuti e la vedete. Prima siamo in una nazione nella quale troppo spesso si è detto, eh sì, in effetti è un cretino, però è amico mio. Noi costruiremo un'Italia nella quale tu per andare avanti non devi avere la tessera del Partito Democratico. Per essere un buon docente non devi per forza avere la tessera della CGL. Per lavorare a certi livelli non devi essere amico loro. Sano merito, se vali vali, se non vali non vali. Manco se hai la tessera del partito mio. Dove arrivi, quello dipende da quanto sai dimostrare tu. In questa nazione manca il principio basilare del merito. Poi hanno detto sempre che la sinistra in Italia aveva una egemonia culturale, ma non è vero. Quello che la sinistra ha in Italia è un'egemonia di potere, che è un'altra cosa. Io voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere. Perché è un sacco di gente che non valeva niente e che è finita ad avere ruoli di responsabilità solo perché c'aveva la tessera del PD. Deve andare a casa! E questo era un po' un mantra, è stato un mantra pre-elettorale, elettorale e di governo di Giorgia Meloni. Basta amichettismo nel nome del merito. Maurizio Landini, segretario generale della CGL. Marcello Sorgi, editorialista della stampa. Con loro vediamo come è andato a finire. Cartello 1 e 2. Parenti d'Italia, Arianna Meloni, Lolo Brigida, la russa Antonella Giuli, con gli incarichi che le sono stati attribuiti nel corso del governo Meloni. Ma ci sono anche gli amici d'Italia. A proposito di amichettismo, c'è Stefania Foris, moglie del presidente Marsilio, che è capo presidenza della Commissione dei Trasporti. Laura Marsilio, sorella del presidente Marsilio nella Commissione Tecnica del Ministero dell'Istruzione. Luciano Schifone, padre di Marta Schifone, che è una deputata di Fratelli d'Italia. Vecchi e nuovi fedelissimi, perché c'erano gli amici di prima, ma ci sono gli amici che si scoprono amici quando sali al potere, quando vieni eletto. E qui c'è un elenco, sono tutti elenchi ovviamente parziali, sono quelli balzati agli onori delle cronache negli ultimi mesi. Ma insomma, era Landini un modo per entrare in argomento e chiederle se prima, come diceva Giorgia Meloni, serviva la tessera del PD o della CGL. Adesso cosa serve? Ma io non sapevo che mandavate questo servizio, però vorrei raccontarvi un aneddoto, perché quando fece questo comizio qui, fine agosto, e arrivò questa notizia, io la sera stesso, il mattino dopo, adesso non ricordo, chiamai la Meloni. E gli dissi che se non correggeva quello che aveva detto sulla CGL, io avrei agito in tutti gli strumenti necessari, perché trovavo le cose che diceva una cosa molto grave. Perché il nostro mestiere non è quello di fare scambi, il nostro mestiere è tutelare le persone, tra l'altro l'iscrizione è un'iscrizione libera, e noi non abbiamo mai svolto una funzione di quella natura lì. E lei, non so se lo prendete, nei giorni successivi, in altri comizi, trovò il modo di precisare, avete sentito che a un certo punto disse anche noi, deve valere per tutti. Quindi precisò naturalmente anche quelle cose lì. E gli chiarì naturalmente che c'era anche un elemento che doveva mettersi nella testa che il sindacato nel nostro paese, a partire dalla CGL, era un sindacato autonomo, indipendente dai governi, dai partiti, dalle imprese, che rispondeva alle persone che voleva rappresentare. Se lei non aveva chiaro quel passaggio lì, era utile che se ne facesse una ragione, perché il sindacato italiano aveva questa caratteristica. Lo dico perché dal mio punto di vista questo elemento è particolarmente importante anche per quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni. E la cosa che io vedo e che a me preoccupo, ho già avuto modo di dirlo e in un qualche modo ho trovato anche in alcuni incontri di dirlo anche al governo, e cioè ho la sensazione che questi stiano scambiando il governare con il comandare, e cioè con il fatto che siccome hai vinto le elezioni, tu pensi di poter fare quello che ti pare senza dover rispondere a nessuno. E da un certo punto di vista mettendo anche in discussione quelle che sono le rappresentanze sociali, che naturalmente nascono. Lo dico banalmente perché io quando rappresento i lavoratori, io li rappresento tutti, a prescindere da quello che hanno votato. E l'ho detto anche al Presidente del Consiglio in un incontro. Guardi che quando io vengo qui rappresentando tutti i lavoratori italiani, rappresento anche quelli che ha votato lei, ma lei deve riconoscere il diritto delle persone che lavorano di potersi far tutelare dal sindacato che ritengono più opportuno. E quando lei non discute con i sindacati, non sta facendo un torto a Landini o Bombardieri, sta mettendo in discussione il diritto delle persone di potersi organizzare, di poter farsi rappresentare nei suoi interessi da un'organizzazione sindacale. Quando non si fa questa cosa, ed è quello che secondo me sta avvenendo, si sta mettendo in discussione la struttura democratica del nostro Paese. Perché c'è il rischio di una svolta autoritaria pericolosa, tanto più in una situazione difficilissima in cui siamo di fronte a dei cambiamenti radicali anche dentro il mondo del lavoro. E quando dico che c'è una crisi democratica, lo dico perché io sono preoccupato quando il 50% non va più a votare. Perché vuol dire che non si sente più rappresentato da nessuno. E questo tema riguarda naturalmente la necessità di usare, quando si dice che ognuno di noi nel ruolo che deve avere, tanto più se svolgi una funzione pubblica lo devi svolgere con discipline e con onore, vuol dire da un certo punto di vista che il modo con cui tu lavori, tu devi essere un esempio per gli altri, un esempio positivo di chi non svolge una funzione per un interesse personale, ma svolge una funzione per un interesse generale per la funzione che ha vinto. Lei ha fatto questa distinzione che è molto bella, no? Governare non è comandare. Però in alcuni casi, in molte organizzazioni politiche e sindacati, uno pensa se non comando non riesco a governare. Uno potrebbe dire che Mallandini, quando è diventato segretario della GGL, non ha decapitato i segretari uscenti e ha piazzato i suoi per governare quell'organizzazione. È il modo più assoluto. Anzi, io adesso se parlo della GGL, io sono contento che la GGL è un'organizzazione di 5 milioni e 120 mila iscritti, mica tutti la pensano nello stesso modo. Io sarei preoccupato di avere un'organizzazione con 5 milioni di iscritti in cui tutti hanno le stesse idee. Per me il problema della discussione, del pluralismo, del riconoscimento, il problema è avere dei processi democratici che quando devi decidere arrivi a prendere delle decisioni e a quel punto quelle decisioni vincolano tutti. Ma a me fa paura l'opposto. Anzi, se posso, io mi contorno di persone che non pensano quello che penso io. Perché io ho bisogno, per poter fare il lavoro che faccio, avendo una responsabilità generale, di avere attorno persone libere che possono avere anche idee diverse in cui prendiamo delle decisioni assieme. Per me conta la lealtà, conta la competenza, non conta la fedeltà, non conta il fatto che debbono tutti... Anzi, io considero che questa sia una degenerazione pericolosa del sistema politico. E insisto, se oggi c'è una crisi di democrazia e generalmente le persone non hanno un bel giudizio della politica, in alcuni casi anche delle organizzazioni sindacali, noi ci dobbiamo preoccupare. Perché non sono loro che stanno sbagliando. Siamo noi che dobbiamo e che abbiamo responsabilità che dobbiamo essere in grado di affrontare una situazione diversa. Per questo le cose che stanno succedendo anche in questi giorni io le trovo gravi. In più, vorrei evitare che queste cose spostassero l'attenzione dai problemi concreti che le persone stanno vivendo. Perché chi contiene avere? Giovani che se ne vanno via dall'Italia, gente che non arriva alla fine del mese. Siamo a rischio, almeno io questo vedo, anche del futuro industriale del nostro Paese. E credo che siamo di fronte alla necessità di prendere delle decisioni ora. Perché se no rischiamo che il nostro Paese diventi una colonia di altri luoghi e perda il suo ruolo e il suo significato. Tra l'altro tra poco ci occuperemo proprio anche dei dati relativi al lavoro e all'occupazione. Però, Sorgi, vorrei vedere con te e con il segretario Landini ovviamente un altro servizio di Veronica... Di Benedetto. Sì, scusate. Un lapsus è l'ultima puntata. Può succedere perché appunto le dimissioni del Ministro San Giuliano hanno lasciato degli strascichi non solo nelle polemiche sulle dimissioni stesse ma anche su quello che è accaduto subito prima che San Giuliano lasciasse il Ministero. Parliamo di nomine, alcune delle quali ritirano in ballo la questione del merito tanto evocata da Giorgia Meloni nei tanti discorsi che vi abbiamo riassunto prima. E allora, Veronica Di Benedetto, vediamo la scheda e poi commentiamo in studio. Un odontoiatra alla guida del Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo. Forse è troppo pure per questo governo. Difficile negare che anche impiantare protesi dentarie sia un'arte più complicato, sostenere che sia questo il curriculum più adatto per guidare un'istituzione culturale. Innanzitutto dall'entusiasmo, dalla voglia di esserci e di crederci. Raffaella Docimo, docente di odontoiatria all'Università di Tor Vergata, sembra pronta a rinunciare. Ma il posto, lasciato dal neoministro della Cultura Alessandro Giuli, rispetterebbe di diritto in quanto componente anziano del CDA del Museo. CDA di cui fa parte dal 2023, su indicazione di San Giuliano. Sono stata chiamata da Arianna Meloni e ritrovandomi quindi con un amico di sempre, il ministro Gennaro San Giuliano. La chiamata di Arianna Meloni è avvenuta per le elezioni europee alle quali Docimo si è candidata senza essere eletta. Ed è proprio durante un evento della sua campagna elettorale che Docimo fa conoscere San Giuliano e la donna che poi gli ha fatto perdere il ministero. L'eredità di San Giuliano non finisce con l'odontoiatra al Maxi. Prima di lasciare il Collegio Romano, l'ex ministro ha firmato un decreto di nomina per 18 nuovi consulenti. Si tratta dei componenti della commissione che deciderà quali film potranno essere finanziati e quali no, con contributi pubblici, 50 milioni di euro. A guidare la commissione dovrebbe essere l'avvocata matrimonialista Manuela Maccaroni, da un anno presidente dell'Osservatorio per la Parità di Genere del Di Castero. Anche prima della film commission tra i molti nominati da San Giuliano spiccano amici e compagni di partito. Salvatore Sica, fratello di Silverio, l'avvocato dell'ex ministro, è presidente del Comitato per il Diritto d'Autore. Consigliere per il Mezzogiorno è Luciano Schifone, ex eurodeputato di MSI AN e padre di Marta Schifone, deputata di Fratelli d'Italia. E poi diventato un caso quello di Beatrice Venezzi, dopo la denuncia di Maria Rosaria Boccia. È consigliera per la musica e anche ben ritribuita, tra parentesi. Il 19 si esibirà per il G7 e il ministero le riconosce un cachet. La direttrice d'orchestra minaccia un'azione legale, ma i dubbi sull'incarico al G7 rimangono. Allora, per noi è molto importante questo racconto, perché abbiamo sempre detto che il caso San Giuliano, nello scenario che ha descritto Landini di questo paese, è un po' come se fosse un simbolo. Cioè, apre tante finestre e tu vedi qual era il mondo che c'era dietro, lo stile. Però vogliamo sentire il tuo giudizio su tutto. Io penso di aver capito cosa è successo a Giorgia Meloni. Lei è partita con quello che abbiamo ascoltato nei comissi. Arriviamo noi e mandiamo a casa tutti quelli che non valgono, tutti quelli che sono stati messi per una tessera, i lottizzati in un paese in cui la lottizzazione era molto larga, insomma, prendeva un po' tutti i partiti del Parlamento. Poi cosa è successo? Che si è trovata di fronte a un paese che lo conosciamo, è un paese in cui c'è sempre una parte consistente che si sposta. Cioè, che si sposta da un partito all'altro, che si sposta da uno schieramento all'altro. guarda il Parlamento, no? Il Parlamento nella scorsa legislatura ha avuto un record più di un terzo dei parlamentari, quando erano tanti di più, più di un terzo dei parlamentari hanno cambiato tessera, hanno cambiato casacca. E quest'anno la percentuale è già piuttosto alta se si confrontano periodi uguali, è già più alta. Quindi, quando si trova di fronte a questa cosa, naturalmente cosa fa? Ripiega. Certo, nel caso suo... Cioè, si arrocca a causa della fluidità del... Ma sì, innanzitutto non li conosce, poi non è sicuro che la fede sia quella. E soprattutto, a un certo punto, questa è capitata a una persona che purtroppo si fida solo dei suoi parenti, perché gli incarichi più importanti li dà sempre ai suoi parenti. Quindi, è molto difficile fare quello che lei ambiva a fare e dichiarava nei comizi dell'ultima campagna elettorale, quella in cui ha vinto, per intendersi, avendo il carattere che ha e trovandosi di fronte un paese come questo. Allora, Landini, avete, come CGL, Cisle, Wille del settore cinema, annunciato battaglia. Però, prima di spiegare a casa su cosa e contro cosa, vediamo... No, posso dirti solo una cosa. Io ho letto la lista di questi componenti e ce ne sono alcuni nuovi di destra i quali non ho mai sentito che si occupassero di cinema. Però, siccome non si sa se questi decreti sono passati al vaglio dei controllori del Ministero, io non so, francamente, se alcuni di quelli che sono grandi esperti di cinema abbiano accettato o no. Perché tanti dicono che non accetteranno. Ma non lo sai veramente o ci stai dando una... No, no, non lo so. Stai suggerendo e non dovrebbero accettare. No, non li voglio neanche dire perché poi magari domani si scopre che non hanno accettato. Però la lista comincia con alcuni dei più importanti critici cinematografici e storici del cinema italiano. Siccome sono sicuro che qualche perplessità l'avranno a mettersi accanto a quegli altri, bisognerebbe sapere se questi decreti che ha filmato San Giuliano sono validi o no. Cioè, perché ho letto che in genere in un decreto cosa fa? Passa per tutte le strutture di controllo poi arriva sul tavolo del ministro e il ministro lo firma ed è valido. E in questo caso lui ha firmato di corsa prima di andarsene quindi non sono stati sottoposti. Non sappiamo se la filiera è stata tutta... Però vorrei che notaste un dato. Voi avete indicato qui strano che un odontoiatra possa diventare questo ruolo. Sì, il Max è un'importante istituzione culturale. Giulia era un ottimo... Ma guardate, vorrei farvi notare che in realtà forse c'è un elemento di evoluzione. generalmente si diceva che con la cultura non si mangiava. In realtà questo c'è proprio un cambiamento. Vogliono dire che con la cultura si mangia al punto che serve avere anche dei buoni denti e una cura anche dei denti. Ecco, questo non l'avevamo pensato effettivamente. la cultura cattiva. No, dovete sempre... Guardate anche gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi. Cercheremo, nel caso si riesca a parlarci, di segnalarli anche a Nanni Moretti che oggi, anzi ieri, a Venezia, a margine della mostra del cinema, era parecchio arrabbiato. Lo vediamo un attimo e poi raccontiamo anche cosa succede fuori da Venezia e la protesta che si accingono a fare i lavoratori del cinema. Ringrazio per questo premio inaspettato e sproporzionato. Insomma, ragazzi, grazie ma forse avete un po' esagerato. Volevo dire un'ultima cosa ai colleghi produttori e registi forse dovremmo essere più reattivi più reattivi nei confronti della nuova pessima legge sul cinema. Grazie. Allora, per citare Moretti Pensa che gli fa Moretti ad alcuni di questi componenti della nuova commissione. Sono affari loro però chi parla male pensa male mi perdonerà. Nanni Moretti è quasi una call to action come direbbero quelli che pensano e parlano male. Cioè una chiamata all'azione per i lavoratori del settore lui cita i produttori ma voi CGL, Cisle Will insomma i lavoratori del cinema che rappresentate manderete una richiesta una richiesta di incontro urgente al nuovo ministro della cultura Giulia per parlare del calo occupazionale produttivo insomma tutti i numeri del cinema solo in calo 40% e meno di produzione italiana di produzioni di giornate lavorate e quindi di lavoro banalmente che cosa vi aspettate che accada nell'interlocuzione con il nuovo ministro della cultura? voglio ricordare che quando ci fu il covid esplose in modo molto esplicito tutti i problemi di questo settore no? Sì perché emersi il livello di precarietà su cui viveva il fatto che tanti lavoratori non avevano tutele nemmeno di fronte al calo del lavoro e quindi si aprì a loro un'interlocuzione una discussione proprio per anche in quei settori rinnovare contratti nazionali che erano anni che non si rinnovavano e dare anche una serie di strumenti anche in passaggi di questo genere anche di sostegno al reddito in caso di non lavoro di qualificazione di diritto alla formazione e quindi da allora dal covid in realtà si è aperto anche un percorso di lavoro che tenta di ricostruire anche una presenza sindacale in un mondo frantumato diviso in alcuni casi diviso anche per mestiere perché ci sono anche tante professionalità diverse con il tentativo di dare una visione in questo caso alcuni risultati si ottennero durante il covid per aprire questa strada e poi lo dico non perché adesso c'è stato anche il cambio ma non ci sono stati dei rapporti di liaci con il nuovo con quello che è stato ministro sul piano anche sindacale perché non ha riconosciuto anche determinati temi quindi la cosa che la categoria in questo caso unitariamente sta facendo è proprio quello di non solo tutelare meglio la condizione ma un ragionamento che riguarda anche che tipo di politiche si possono fare per far crescere questa cosa e soprattutto lo dico in modo molto chiaro quando parliamo di precarietà nel lavoro quello è uno dei settori in cui oggi i livelli di precarietà sono assolutamente amplissimi e non più accettabili lei si aspetta un cambio di atteggiamento di passo un'interlocuzione diversa con il ministro Giulio noi questo lo stiamo rivendicando non solo al ministro lo stiamo rivendicando a tutto il governo e siamo ancora in attesa perché faccio un esempio abbiamo fatto un incontro il 5 di agosto su tutto il settore dell'automotive della componentistica del sistema industriale e abbiamo chiesto per tutto quello che sta succedendo da Stellantis a Ilva a Glencore oggi in Sardegna che cessa l'attività dello zinco sono mille lavoratori che rischiano di saltare via di questo passo abbiamo chiesto che ci sia una convocazione della Presidente del Consiglio che ci sia una discussione sul futuro del sistema industriale manifatturiero del nostro paese non abbiamo ancora avuto risposte e quindi da questo punto di vista è chiaro che quello che oggi noi rivendichiamo è che ci siano luoghi e sedi in cui si possano trovare degli accordi e affrontare sostanzialmente i problemi perché vediamo una situazione anche nei prossimi mesi preoccupante è molto difficile i numeri della CGL proprio quelli che avete presentato voi nel vostro dossier spiegano la preoccupazione di Moretti 197 settimane di riprese in meno 1477 lavoratori in meno utilizzati 73 mila giornate contributive in meno però a questo punto le voglio chiedere se lei fosse stato Giorgia Meloni che cosa avrebbe fatto con San Giuliano l'avrebbe spinto le dimissioni o sarebbe andato avanti io non sono Giorgia Meloni l'avevamo capito quindi non faccio dico io parlo semplicemente da un certo punto di vista penso che chi fa il ministro e chi è il governo giura sulla costituzione e per fare quella cosa lì tu giuri di farlo con disciplina e onore si utilizzano queste due cose quindi non faccio il moralista insisto che chi svolge una funzione di questa natura deve essere un esempio virtuoso per tutti quelli che l'hanno votato per tutti quelli per cui lui governa perché governa per tutti e quando ci sono comportamenti che non vanno in questa direzione io credo che sia necessario prendere delle scelte quando queste cose non avvengono vuol dire che prevalgono non la disciplina o l'onore ma prevalgono interessi di parte interessi locali interessi di altra natura e insieme perché dico questa cosa? perché io vedo un deterioramento democratico di fiducia di consenso delle persone se tu vuoi ridare una credibilità alle istituzioni alla politica dico anche allo stesso sindacato devi ritornare ad essere dei soggetti che si occupano dei problemi delle persone poi uno può essere non d'accordo con la proposta che tu fai ma non può venire a meno la fiducia mentre oggi io credo siamo di fronte a un passaggio di questa natura per questo io trovo grave quello che è avvenuto e soprattutto è necessario cambiare registro ed è necessario cambiare registro io lo dico non solo perché rappresenti il mondo del lavoro ma perché questo paese lo tengono in piedi quelli che lavorano quelli che dalla mattina alla sera si fanno il mazzo quelli che pagano le tasse quelli che con la loro intelligenza fa anche se questo paese quindi bisogna mettere di nuovo nelle condizioni la maggioranza di questo paese che è fatta di gente per bene che lavora di poter fin in fondo svolgere la sua funzione e aver riconosciuto i suoi diritti cosa che oggi non sta avvenendo e io credo che questo sia il problema vero anche nel rapporto con questo governo nel frattempo Giovanni Donzelli che è nella prima linea di Fratelli d'Italia il coordinatore nazionale del partito che ci sta guardando lo salutiamo lo ringraziamo per essere stato qui a Inonda questa estate scrive secondo voi a Inonda con Landini e Sorgi parleranno del rischio esuberi annunciato da Stellantis mi sembra lei l'abbia appena citato tra i tanti dossier di cui vorrei questo tema l'abbiamo discusso il 5 di agosto con il ministro e abbiamo chiesto un incontro che la discussione di Stellantis e dell'automoto e si faccia alla presidenza del consiglio noi e la Will l'abbiamo chiesto ed erano presenti anche nelle nostre categorie allora rispondo al sondaggio di Donzelli con un siano anche perché non solo c'è un problema occupazionale c'è da un po' di tempo il problema occupazionale perché siamo in questa situazione che quel gruppo ha una capacità produttiva di un milione e mezzo di auto ne fa meno di 500 mila e tutti questi che chiedono cosa facciamo adesso gli chiedo nel 2010 nel 2011 nel 2012 dove erano quando noi la CGL e la FIOM dicevamo che le scelte che si stavano facendo erano scelte erano scelte sono state anche al governo nel 2009 e nel 2010 al governo c'era Berlusconi e il ministro e il Rassacconi quando si fecero tutte quelle robe qui e dove erano allora perché noi oggi su alcuni settori paghiamo il fatto che allora chi dirigeva le aziende la proprietà e chi dirigeva le aziende sosteneva che investire sull'elettrica era una cavolata che non c'era più bisogno di avere i settori di macchine complessive ma bisognava concentrarsi sul premium e via di questo passo quelle scelte lì sbagliate le paghiamo e le stiamo pagando anche adesso quindi noi è da un po' che stiamo dicendo non solo Stellà tutto il settore della componentistica dell'auto noi da un po' stiamo dicendo che c'è bisogno di altri produttori anche nel nostro paese ma produttori per fare ricerca per fare innovazione noi da un po' stiamo chiedendo che si facciano quegli investimenti e quelle politiche industriali che non si stanno facendo quando è stato dato un prestito a Fiat noi a FCA noi abbiamo chiesto con i governi che c'erano che oltre a dare il prestito ci fosse anche un ingresso nella partecipazione del pubblico perché io se vado a fare i conti di quanti soldi pubblici sono stati dati in questi anni alle imprese nel settore vogliamo fare la somma e in molti casi non c'è stato alcun intervento pubblico per controllare e svolgere questa funzione allora io ho risposto sì al sondaggio di tutti quindi da questo punto di vista mi permette di dire che il problema non è cosa diciamo noi stasera è cosa hanno detto e fatto tutti questi negli anni passati non è che lo scoprano adesso non è che questi problemi nascono stamattina sono le scelte degli ultimi 10-12 anni che sono state fatte nel nostro paese e allora siccome io c'ero l'ho vissuto questo periodo qui a me lezioni su quel punto qui non me le dà nessuno possono dire che non ho capito che ho sbagliato quello che voglio ma lezioni per chiedermi dove eravamo non le può dare nessuno e adesso si debbono assumere loro la loro responsabilità noi abbiamo chiesto che intervenga direttamente la presidenza del consiglio e che quello diventi il luogo di discussione per fare le scelte noi una risposta non l'abbiamo ancora avuta segretario Andini io la seguivo quelle battaglie da cronista mi ricordo che lei fu anche criticato da Fassino che diceva io voterei come dice Marchionne e non come dice Randini però nella risposta a Donzelli c'è un grande problema di oggi cioè è importantissimo per l'Italia e per l'auto c'è il ministro Urso mi sembra con una posizione molto ragionale che dice se l'Antis non vuole garantire questa produzione mettiamoci un altro produttore anche un cinese se viene lei su questa proposta shock è d'accordo? noi lo stiamo chiedendo da tempo facciamola così l'unico paese industriale al mondo importante che ha un solo produttore è l'Italia perché non è così in Francia non è così in Germania non è così in Giappone non è così negli Stati Uniti non è così in Cina quindi il fatto è che noi da tempo diciamo che c'è bisogno anche di però sia chiaro non stiamo pensando a dei stabilimenti cacciavite a qualcuno che porta qui i prodotti e qui si assembla il problema che abbiamo noi è investire in innovazione e in tecnologia domani mi pare che Draghi come diciamo presenterà il rapporto sulla competitività dell'Europa qui abbiamo un problema la dico banalmente perché non voglio portarvi a tempo ma dal 1600 ad oggi i paesi occidentali sono sempre stati all'avanguardia del sistema industriale e manifatturiero al punto che noi chiamavamo tutto il resto paese in via di sviluppo oggi siamo di fronte ad un cambiamento epocale perché oggi non è più così oggi hai i cinesi i Stati Uniti l'India il Brito hai altri paesi che stanno venendo avanti e noi corriamo il rischio di perdere proprio questa capacità non solo di saper fare che ce l'abbiamo ma di innovare e di investire e quindi mai come adesso c'è bisogno di una politica italiana ed europea di investimento che rimetta al centro il lavoro l'innovazione per questo c'è bisogno di un intervento pubblico ci siamo per questo c'è bisogno di un ruolo pubblico in Italia e in Europa altrimenti non si va da nessuna parte e questo vuol dire mettere al centro i lavoratori difendere i lavoratori vogliamo noi andremo andremo in Sardegna vorrei che questo fosse chiaro aver deciso la Glencore che non fa più la linea dello zinco sono mille lavoratori in meno per la Sardegna è una botta incredibile su questa cosa stiamo a guardare Becco che ha comprato Becco elettrodomestico che ha comprato la Wirpul Turchi qualche giorno fa ha annunciato nel CAE che chiude due stabilimenti in Polonia sposta le produzioni in Turchia e in Italia non ha ancora detto nulla di che cosa farà negli stabilimenti vogliamo parlare di altri settori mi vorrei concentrare lo so che è meno importante per questo c'è la necessità oggi di un confronto vero di una discussione ma c'è un lavoratore che viene attaccato sui social da Maria Rosaria Boccia ed è Gennaro San Giuliano anche questa volta perché Sorgi noi ci scherziamo sopra perché insomma inonda anche questa vena di ironia però c'è un posto di Maria Rosaria Boccia che pone un tema risponde al ministro sulla denuncia annunciata per estorsione tentata estorsione eccetera però dice scrive Maria Rosaria Boccia l'ex ministro è un bugiardo un uomo che manipola la verità può tornare a lavorare per la tv di Stato allora il tema del destino politico non sappiamo è presto ma professionale di San Giuliano è un tema che già nei giorni scorsi era emerso e ti chiedo ma lui ha detto due cose una che ha un contratto a tempo indeterminato con la RAI quindi è inaspettativa e che quindi immagina che finito il lavoro del governo tornerà in quella azienda la seconda cosa che ha detto è che non vuole avere un incarico di grande rilievo e anche questo per chi è stato in politica in genere in RAI diciamo non subito ma comunque spesso per sempre non ci sono incarichi di grande rilievo la terza cosa che vorrei dire è che comunque la boccia batte su questa storia del bugiardo 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 e immagino che lo dica perché vuole dimostrare qualcosa cioè perché ha le pezze d'appoggio per dimostrarlo però è anche vero che finché non è conclamata questa cosa cioè ci deve essere un'autorità terza che dica che è un bugiardo se non è calunio dice un'altra cosa perseguibile hanno annunciato delle azioni giudiziarie peraltro contro la boccia ci sarà un contraddittorio a un certo punto ci sarà un giudice che dirà se San Giuliano mentiva o non mentiva se era un bugiardo e poi su che cosa era bugiardo perché nella vostra devo dire interessantissima intervista lei ha fatto una serie di esempi ma lasciandoli così in generale quindi c'è bisogno che qualcuno ci metta le mani su questa cosa e anche molti popcorn credo però adesso c'è il super spot torniamo subito allora c'eravamo lasciati l'ultima volta che lei è venuto qua con la CGL in prima linea sui referendum banchetti tavoli più quesiti quelli sul lavoro quello sul insomma quando li farete e come? sul lavoro abbiamo già depositato 4 milioni di firme luglio e siamo in attesa che la corte ci dia l'ok sull'autonomia differenziata andremo a depositare le firme il 26 settembre abbiamo già ampiamente superato le 500 mila firme necessarie si stanno continuando ad allargare è stato un grande risultato una grande partecipazione e penso che sia assolutamente una prova democratica importante c'è una richiesta delle persone di andare di partecipare di votare di cambiare leggi sbagliate per quello che ci riguarda l'autonomia differenziata non è emendabile è proprio un errore un arretramento del nostro paese il nostro quesito è molto preciso quello di abrogare una legge inutile dannosa e che mette in discussione in realtà i diritti e la libertà delle persone per noi i referendum hanno il significato lavoro e autonomia di mettere al centro la libertà di esistere delle persone sei libero se non sei precario sei libero se hai uno stipendio sei libero se non muori sul lavoro sei libero se hai una sanità pubblica sei libero se hai il diritto a essere ritribuito e a studiare sei libero se hai una struttura industriale degna di questo nome quindi è il momento di fare sistema non di dividere il paese di allargarlo questo è il senso e il significato per quello che ci riguarda della lotta il referendum grazie Marianna devi iniziare a fare i saluti intanto salutiamo i presenti ringraziamo e salutiamo Marcello Sogge e Maurizio Landini una cosa brevissima posso dire sul referendum 10 secondi perché stavolta ci viena proprio che trovo che questa è una cosa coraggiosa perché il referendum come sappiamo sono falliti tutti tranne due eccezioni taglio dei parlamentari e acqua pubblica negli ultimi dieci anni e dipende dalla scarsa partecipazione al voto infatti sarà un bel test anche su quello bisogna portare la gente a votare il test di non d'estate invece diciamo si rischia di non perderli nel merito ma di perdere dobbiamo chiudere davvero Marcello perdonami fatto è superato è andata meglio di qualsiasi previsione possiamo fare qualche saluto qualche ringraziamento allora intanto gli autori Mimotorisi Calla Mellidi Mercedes Vela Callo Romano Michele oddio caro preso ho scritto per stipino ma sapevo che non era per stipino Roberto Brunelli gli inviati la redazione la sartoria i tecnici il trucco il parrucco la produzione la nostra mitica geniale regista Sabrina Tricarico che ha fatto miracoli non ultimo quello dell'intervista a Maria Rosaria Boccia che è stata messa in piedi in pochissimo grazie a una sua intuizione e poi familismo la famiglia di Nonda è quella su cui contiamo è quella che insomma che tutte le state va tenuto compagnia e siamo stati molto contenti grazie hai detto tutto meglio di me ed è una famiglia di affetti non tradizionale queer la famiglia queer di Nonda vi salutiamo c'è Eden ci vediamo in giro ciao